che diventa più evidente negli animali domestici quando inizia a formarsi la porzione del corpo mentale chiamata mente istintiva commento la mente istintiva inizia a formarsi nel mondo vegetale poi nel mondo animale inizia a formarsi la mente intellettiva che diventa più evidente negli animali domestici nei cavalli e nei delfini